Mentre c'è chi tra le file aquilotte, per dirle alla Bertè, pensa al mare d'inverno, sulle sponde della Digetto, il Trento di Orsini, oggi ospita un termeno che da quando ha raggiunto la vetta ha iniziato a soffrire di vertigini. Due sconfitti nelle ultime due uscite per l'undici di Pomella sembrano indicare una squadra in sofferenza. Compito del Trento, reduce dalla convincente vittoria di Naturme, voglioso di tornare alla vittoria di Abriamasco, fare la diagnosi ai bianconeri. Pronti via e già al primo minuto la cura Trento, ai basso attesini, sembra dare i suoi frutti. Da un angolo in favore dei padroni di casa, veloce ripartenza ospite che con pochi tocchi arrivano dalla parte opposta del campo, è Elix Captina a ricevere l'assist da Alex Fischer. Il numero 11 bianconero aggira a scali e comodamente deposita la palla in rete per lo 0-1. All'ottavo ancora bianconeri pericolosissimi in avanti, con Fischer Daniel che dal fondo, crossa basso in mezzo, è bravo capitano Casagrande a salvare in extremi sulla corrente Captina. Il Trento non riesce a riordinare le idee e permette al Termeno di ripartire con azioni in velocità ben orchestrate nella zona mediana da Capitan Rellich e compagni. Al 36esimo, dopo diversi fuorigioco sembrati dubbi a favore dei padroni di casa, Mister Orsini si fa sentire e il signor Bonassoli di Bergamo lo allontana dal campo. Allo scadere della prima frazione il Termeno trova la rete del raddoppio. Rellich serve in profondità per il movimento di Daniel Fischer, che in aria fa rimbalzare il pallone e con un preciso tiro in diagonale pesca l'angolo lontano alle spalle di Scali. Ad inizio ripresa scende in campo tutto un altro Trento e già al 52esimo i ragazzi di Libanoro, vice di Orsini, accorciano le distanze. Massimo Orsini dalla destra pennella un ottimo traversone sul secondo palo, dove è appostato Perrone che devia di testa alle spalle di Maier. Sette minuti più tardi gli Achilotti pervengono al pari. Calcio d'angolo di Gattamelata, tenta la torsione in tuffo Casagrande, in mischia la palla arriva sui piedi di Di Dio che devia in rete. La partita, tornata in equilibrio, diventa interessante e il Termeno ha al 66esimo una buona occasione per tornare in vantaggio. Il neo entrato Psenner riceve palla in sospetto fuorigioco, ma è Scali con una grande uscita a salvare sull'attaccante esterno, ospite. Sul capovogimento di fronte è Gattamelata, con un gran tiro a costringere Maier alla deviazione aerea. Un minuto più tardi è ancora il numero 10 gialloblu, con un'azione personale conclusa con un gran tiro a far gridare al gol il pubblico del Briamasco. Bella giocata al 73esimo del bomber bianconero Fischer Daniel, che si libera con una magia del diretto avversario e con una puntata impegna in tuffo Scali. Quando ormai la partita sembra incanalarsi sul risultato di parità, i ragazzi di Orsini e Libanoro all'86esimo colgono gol vittoria. Angolo di Massimo Orsini e sul primo palo svetta più in alto di tutti Capitan Casagrande, che insacca alle spalle di Maier. Dopo tre minuti di recupero il signor Buonassoli fischia la fine del match. Il Termeno continua su mal di trasferta e complice alcune ingenuità su palle inattive, perde la terza gara consecutiva. Il Trento torna a vincere al Briamasco dopo due mesi e l'estate al mare di Giunirusso sembra ancora lontana. Rieccoci allora, Andrea. Oltre a questo, qualche clip da commentare? Sì, beh, intanto mancavamo... Io mancavo da Briamasco dal 15 settembre, sono tornato e quindi, insomma, direi che posso portare bene alla squadra di Orsini e Libanoro. Le clipsi ci sono, ne abbiamo raccolte alcune di serie, una, come al solito, un po' meno seria. Ecco, qui bisognerebbe vedere l'azione un po' schiacciata, però comunque qui c'è il perrone che viene fermato in offside dall'assistente. L'arbitro era interregionale, era di Bergamo, signor Buonassoli di Bergamo, e l'assistente dalla parte opposta ha alzato in questo caso la bandierina, al di là che poi comunque anche Mastroianni si era fatto comunque parare il tiro da Maia. Non vediamo bene, probabilmente. Questa era una delle alzate di bandierina che hanno indispettito mister Orsini. Quindi questa era una, poi ce n'è sicuramente un'altra. Eccolo qua, vediamo. Anche qua, in questo caso è stato fermato anche qui il numero 11, in questo caso invece è Perrone. Per fuorigioco? Per fuorigioco, sì, sì. Adesso purtroppo non riusciamo a vedere il guardaline, ma ha alzato qui in questo caso la bandierina. Il giocatore è sulla sinistra? Sì, però ovviamente anche a Mastroianni. No, noi non lo vediamo. Da qua è inutile commentare perché ovviamente è difficilissimo riuscire a interpretare. Vabbè, e poi c'era una terza clip, Andrea? Dicevi? Sì. C'era una terza clip. A memoria. Vediamo qua. Ecco questa, questa è la bella uscita di Scali, però qui tutto il pubblico del Bria Masco appunto rumoreggiava, proprio anche perché visto che sembrava che l'assistente dell'arbitro ce l'avesse un po' con i colori gialloni. Vediamo che le gambe sono, vediamo le gambe nella parte altissima dello schermo, almeno noi, non so se da casa si vede, dietro il difensore più... Il guardaline era in buona posizione in questo caso, lui non ha alzato la bandierina e grazie all'uscita di Scali il Trento si è salvato perché sarebbe stato l'eventuale 2-3 del termine, o che eravamo sul punteggio di 2-2. Regolonga, insomma. Queste sono le occasioni che sono accadute oggi, un po' dubbio in quel di Trento. Fuori giochi, regolonga. Il fuorigioco, insomma, è la regola che più impegna gli arbitri, soprattutto quando sono da soli. Ecco, questo era l'altra clip, scusi. No, niente, sinceramente questo. Questo è Greif e qui c'è Casca Palma, appena entrato, Casca su Spampinato e lui ha protestato per il rigore in questo caso. A me sembra un bel tuffo, visto che magari, non so, c'è l'ido di Termeno, non so.